La vera domanda E lei già ride, la vera domanda non è E perché? Non è perché, ma è quanti video faremo su questo gioco Perché dopo averci speso 44,99 euro Ricordiamo Che li ho Dai ma chi se ne frega Ma sono i migliori soldi che avrò speso quest'anno Ah ecco, no addirittura Sì sì, ma io lo so The Walking Dead Destinies Da gli stessi produttori di Kong Alto capolavoro di quest'anno Arriva il gioco ufficiale di The Walking Dead Ufficiale Musica e logo Quindi attenzione, reggiamoci forte Sarà serie? Dipenderà da voi come sempre Ma andiamo Sarà, sarà È un gioco che rilegge i fatti ufficiali Canonici di The Walking Dead Ci permette di alterarli Quindi il sogno proibito di molti Che si sublima Quindi se io non voglio far morire Un determinato personaggio potrò E a quanto pare sì E quindi È tipo il What If Di Marvel Targato Walking Dead Effetto pellicola Basso Non cambia niente Cominciamo benissimo Predefinito Che è? Che è? Ah no ti vedevo catafratta Che so? Vediamo Stavo leggendo Stavo cercando Eeeh Difficile Difficile Ma cosa? Difficile nel film Il mondo sta cercando la morte Non ti penso neanche un gioco Hai scelto medio? Sì Ah Troppo difficile Vedi? Che trovo difficile Sei pronta? Sì Dopo la caduta Harrison Memorial Hospital Chiaramente È la prima stagione Quella che prendi l'esame Benvenuti nell'Apocalisse Episodio 1 Giorni passati Te ricordi tu bene La prima stagione? Sì Io ho qualche Voto Rick Rick Grimes Allora Rick è Lo specchio che non specchia Intanto vediamo Discretamente in salute Perché è ancora verde Ma chi letti hanno preso? Perché lo specchio specchia Cosa che non ci so Cioè La stanza vota? Uh Cominciamo benissimo Cominciamo benissimo Allora Esci dalla stanza Premi X Per spostare gli oggetti Molla? Lui si ritrova Nell'ospedale E non sa Cosa è successo Giusto? Non sa Cosa va incontro Dobbiamo andare Nell'ufficio Degli infermieri Ah brava Che non si legge Per loro Sì perché Proprio sotto di noi C'è 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 L'obiettivo Prova e prendi Gli antidolorifici Beh in mezzo Cosa ho bisogno? Ti va? Ammorsa la confezione Ah Pensavo ci stesse cambiando Che faccia c'ha Vabbè Pensavo che poteva andare peggio sii ma bella mobilità occhio Rick caffeteria don't open dead inside vuol dire ma cosa è diventato ma all'inizio sembrava gli somigliassi di più mi ricorda chi mi ricorda muoviti di nascosto nessuna fretta certo che a piedi nudi non andremo molto lontà ma chi è sono i zombie ah ci fa anche vedere il percorso che fanno occhio però così è facile tu hai scelto medio ma non credo che non credo che ti devi girare su un po' di brivido vai fregatene aspetta ecco adesso ma mi vede ha occhio occhio io non posso dire quando sei nel fumo ma che cazzo cosa vuol dire non è un fumo così denso da penso per l'odore ah dici magari è un fumo puzzone vabbè siamo fuori non ancora rotola tra i vaganti per raggiungere l'uscita che rotola fatti vai 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 ah ah coso tutto tutto compenetrato bello mi è piaciuto ma osserviamo i nostri amici sono uguali sono gemelli esatto gemelli anche vestiti uguali andiamo la sentite? ognuno si diverte a modo suo la puzza di capolavoro ah eh ti è piaciuta questa battuta? quello inconfondibile a favore eh cosa stiamo raccogliendo? ah per 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 distrarli possiamo tirarle cerchiamo di farla un po' stelto dai no no ma stavo io a lanciare la bottiglia lancia? ha lanciato? poi che pigiama? penso tu devo prenderla beh ma c'è ma ne ne ce n'è andato uno solo perché sta laggando? hai visto quanto ha laggato? corri corri te frega ma quant'è laggato è sceso tipo a 5 frame al secondo finito? faceva parte della scena invece c'è Rifford e Grimes viene ferito mentre si trova in servizio il suo amico di infanzia e collega Shane Walsh è al suo fianco mentre Shane chiede disperatamente aiuto Rick entra in coma si risveglia in un ospedale scopre che il mondo è cambiato immediatamente dominato dai morti torna nel suo quartiere cercando disperatamente sua moglie Lori e il suo figlio Carl no Carl prego vibra tutto qui puoi sbloccare nuove abilità e migliorarle sblocca nuove abilità in qualsiasi momento nel menu delle abilité più tardi quel giorno quartiere di Rick già abbiamo fatto ascolta così è? il gioco durerà tipo un quarto o due io già lo so così è? ora ci assomiglia un po' vero? è il sole ah ah hey you what's that bandage for? did you get bit? bit? no I got shot shot? you even know what's going on? I'm a cop woke up today in the hospital that's all I know first you need proper clothes there's a sheriff cruiser just up the road might have something that'd fit you then you need to know about the walkers when I just shot it ripped into you try to eat you if this is the first you're hearing it you need to listen up mi ricordo il nome vogliamo dire che giocando non 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 spoileriamo nulla per chi non avesse visto la serie si anche se insomma è vero che sono anni che è uscita però ecco il personaggio non mi ricordo come si chiama ricentramento riccentramento riccentramento ah casualmente si è morgan è un'altra cosa cammina anche rick stai on this channel so we can talk I'm watching from the roof copy after that I need to go find my family ok penso a indugiale no 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 penso a indugiale no no mi sta indugiale con apri mai ah qua qua no non si può ah no bubba Oltremmo scappare la stamina quando ti necessitano il più. Cerco di usare una batte per rilassare in cuore. Prendi l'altra a te. Cosa c'è? Cosa c'è? Oh, non ho ragione. Bene, usi il batto per riprendere. Quando si sono scomparati, è quando sei per il giudice. Dacci sotto! Ragazza, ARB! Dacci sotto! Ah, ok! Che cosa c'hai, Link? Che sa bene l'infarto? San fartà! San fartà! Ma perché? Ma è tutto verde! Non capisco... Per eliminare i vaganti. Ah, c'ha l'adrenalina! Quando il cuore sta... Leggi un po'... Quando il cuore sta pompando, colpisci nemici e premi Y per eseguire l'eseruzione. Hai capito? Sì! Senti questo? Il tuo adrenalina si aumenta ogni volta che ti scopri o uccidi uno di quei vaganti. Questo ristorirà un po' di salute. Praticamente più ne fai fuori e più si riempie di rosso il cuore. Sì, sì. RT per colpire nemici con colpi lenti. Vabbè, qua è molto tutorial. Ci fa capire un po' le mosse. E' la fiera del muro invisibile, sto gioco. Io l'ho fatto, però. Sto guardando... Sto braverando. Dico... E' quello fuori! E... Spacca! Non ti preoccuparti, Bonn. Sia già morti. Questo è un scopi. Tra inizio un forte spazio! Allora... Prova una macchina della polizia! E' un ufficio della polizia al fine della strada. dovrebbe ancora avere un po' di gas nel tank, ora non ho bisogno spaccala, spaccala calma si ma tanto ma è l'ID di Y, ah no sono io ok ci siamo sei un buon uomo Rick, spero di trovare la tua famiglia ma che ne sa che sono un bravo uomo non lascia fare Broadcasting su un channel emergency Siamo arrivando l'Atlanta, sulla via 85 Se qualcuno può leggermi, per favore rispondi Oh no, oh no Oh no, oh no Non mi ricordo come trova la moglie e il figlio Rick e Morgan prendono state diverse Giurando di rimanere in contatto via radio Morgan racconta a Rick di voci su un campo militare d'Atlanta Che fornisce rifugie su un avviso Rick si incamina verso Atlanta Tuttavia è arrivato in città La trova in base dei morti L'unica opzione è continuare a cercare la sua famiglia Ma tenere viva la speranza Quella è l'ultima a morire Ma le scelte? Sì, sì Io volevo essere cattivo E' attivo subito Perché non posso? Hanno promesso scelte Non ci sono scelte Qualche tempo dopo e stiamo ad Atlanta Episodio 3 Ma ora non si vedrà Fegato Allora Adesso Si è allargato Scegli il tuo destino Affronti temici con furtività In combattimento Entrambe le cose La scelta è tua Furtività Oppure combattimento Vabbè LX Rotola Non è complicatissimo Grazie che me l'hai detto Perché effettivamente Lo dicevo allora Ma parlatemi cosa Perché era qualche talkie Ma perché niente specchia niente Manco Manco il pezzo Cioè Il pilone Perché in realtà È tutto un sogno Attraversa Atlanta 44 euro 44 euro È una roba Veramente Aspetta Tagli tempo Dici eh Occhio Occhio A noi ci piace Alla burina Per chi Per chi Invece Se l'è vista La serie Uno dei miei personaggi preferiti È Daryl Che non so se lo vedremo Non vedo l'ora Di vedere come L'abbiano fatto Perché no Oh No penso tu debba Sto pesando udile Ti nascondi sotto l'infalcatura Quando stai esternì Trovo un modo per avanzare Vai di Y Che ha detto? Forse posso attraversare quel bus Sposta il bus Arrampiati Ci manca magari Una torcia Beh che troveremo anche armi Poi Oh porca Niente Ne hai attirati dopo Devo fuggire Ma devi andare di là Comunque Non ci va Ci passa Ci passa Scelta di design Bravissimo Corri e fregatene Corri e fregatene Ecco Provera fama Bravissimo Nooo Mannaggia Niente Stato critico Bravissimo Vai vai Che ritrapassa Visto Andoroto Nooo Niente Un uomo morto Che cammina La prima volta Che siamo morti 1 E non moriremo mai più Noi L'hai detto Ricordatelo L'hai detto È l'ultima volta L'hai detto Io me la segno Io me la segno Che la prima volta The end Oh Rick Scrivo Uno Dove ho sfruttare Più la rotolata Sì Eh porca Vabbè ma frega Tu rotola Nel dubbio Rotola Rotola ma senza Sopravvalutarlo Bravissimo Ti potrei arrampicare Di là Di là Niente Vabbè 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 Ricca Però non ti arrampichi Da nessuna parte Scrivostra Furente Solo attacchi pesanti Nessuna schivata Nessun riparo Ma non ha senso Elimina i nemici Per guarire La cicatrice E' buono Meno male che non attraversano Cioè che non scavalcano Sto guarendo Io sto arrivando i nemici Ma non Fai Y No per comprare Che passa Dell'acqua Ma è meglio Almeno ci sale la vita Ma no Ma da che parte Devo andare Eh dell'acqua Forza Non ci passa Sì 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 Saliva là sopra No no Di là Ma torniamo in un punto Che non c'entra niente Forse tu devi uscire da qua E rifare il giro Dall'altra parte Vedi com'è Tu debba Spostare questo qua Per scavalcare E sto Che sono rimasti Tutti Belli ordinati Ma che cazzo Ma Dai frega Te ne sposta il coso No Moriamo Ah bravo No mi sa che Per l'altra Non so Poi usare Sì! Che è una bruttezza cosmica il gioco. No! Dov'è il caro armato? Sarà dietro di noi. Quello, quello a sinistra. Che è successo? Ah, siamo entrati. Ah! Terzo personaggio, Glenn. Ah! Hai capito! Vediamolo. Di fronte. Ma cosa? Dai, qualcosina ci acchiappa. Quindi abbiamo un... Piede di porco. Ah, ma Glenn, ti sei alzata adesso, però già sei stanco. E Glenn è un po' pigro. Poi si capirà più avanti. Poi si capirà più avanti. Allora, con Glenn la facciamo stanco. Bravo! Dai che tutti non ci vedono e dormono. Occhio, occhio, vai. Il framerate! Niente, quando si attiva la vista è un disastro. Aspetta, perché qua c'è una porta. C'è scritto non entrare, quindi potremmo entrare. Guarda, guarda, il framerate quanto cala! È incredibile! Non volevo, non volevo! C'è una porta lì, secondo me lo siamo andati. No, non siamo andati. Glenn! La bottiglia! No, di là. No, dobbiamo andare di là e tirarla di qua. Questo lo distratteremo. Allora, in quanti ci vanno? Aiuto! Dai, fregatemi! E lasciatemi! Furente, 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 vai giù! Rotola! E non rotola, è un gioco della... Bellissimo! È un gioco bellissimo e quindi non rotola. Quando è furente, dritto, dritto proprio! Uno quando è arrabbiato non c'è voglia di un pezzo. Non c'è voglia di rotolarsi, non sei arrabbiato te rotoli. Oh no, vabbè! Oh no, vabbè! Veloce, veloce! Poi se vuoi posso provarci anche io! Sono un po' più agile! Non voglio sottoportare questo orrore! Sono più agile di te! Ok! Oh no! Sì! Pisa di cake! Sì! Bello! Bellissimo! Ma rompi la cassa, vabbè o niente! Allora la dobbiamo fare un po' più con calma Il problema è che lo stealth mi è naturalmente scoraggiato Dal fatto che quando lo si usa il framerate mi crolla a 2 Non lo fare stealth Ma se non lo faccio stealth facciate questo Vai diretto a È quello che ho provato a fare ma non mira le casse È un gioco fatto benissimo Prova con le bottiglie Tira amore più di una Staparte È fin qui Eh visto? È pizza cake Perché rimani qua? Volevo vedere se riuscivo a farlo fuori Perché li devi attira Ah tu me li attiri tutti di qua Per poi riandare di là Capito? Poi sarebbe geniale se potessi saltare sopra ma Ma bacca Vabbè Ah Glenn è andata dai Oh Su Raccogli gli oggetti speciali per ottenere punti abilitato a sbloccare Quanti mi racconti? Vediamo che punti abilitato Oh Mamma mia che alberi Ah Glenn o ciò che ne resta Vediamo la velocità di momento quando accopacciati Glenn o quello che si fa chiamare tale Esatto L'impostore Tattiche con la mazza da baseball Sbloccato da Rick Abita l'attacco tattico con la mazza da baseball Usa per far cadere a terra Questo già lo abbiamo Oh no Ottieni delle punizioni quando raccogli Punizioni? Munizioni Spazzino Glenn può solamente muoversi? Oh Migliora la velocità di movimento Tattiche con la mazza Quanti personaggi ci stanno? Ce n'è un altro Glenn può solamente camminare Non è previsto Scusa Ce n'è un altro Che non sappiamo ancora qual è E poi? Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undeci Dove Tredici Quattro Quindici personaggi giocabili Praticamente tutti Quindi Glenn No Glenn Daryl Lo 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 Ma perché vuole attirare La sua attenzione Prendi il coso Io riproverai con la tattica di prima Perché ha funzionato Devo stelto? Sì No Glenn però Porca miseria ma Tutti ci hanno visto Ah non rotola lui Non ha arrotolata Glenn Che cos'ha? Perché non rodoli Glenn? Oh ma Glenn però se gli vai addosso te È far favore no Sì bravo Vedi? Basta Basta arrivare Si sta trasformando C'ha attenzioni serie Allì Li attira Facciamo la La cover Da youtuber famosi Io mi rifiuto E ora Dobbiamo andare dall'altra parte O scavalcare No Speri Siamo sul chietto Edificio Ti devi muovere con canola Perché se non scivolano Oh la granata accecante Aspetta aspetta Non scendere Tiragli la granata Proviamola LBRT Tiè beccatevi questa Ah ecco perché Prima non ci vedono Altre due A granata Oh A granata 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 Mamma mia Ti ha dato giù Rick Ce la sanno No C'era un altro oggetto Eh Ti devi essere più pulito A un uomo con una gun Eh Eh Allora Allora Allenta la tensione Merle è pericoloso Ma potrebbe servirci Questo qui ha bisogno Di una pausa Ma in che senso Eh Anche nella serie Quando praticamente Si Allenta la tensione Si trova qualcuno Che non si conosce Devi scegliere Se fidarti di quella persona O allentare O lasciarla andare Io lo allenterei Ma si Il tuo destino è segnato Oh 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 come from a filthy pig all i am anymore isa man can Assassin swive and sun anybody gets in the way of that is gonna lose are you standing up or am I dropping you all right officer friendly take us to the promised land what the hell man you just don't let him give away with this just calm down we'll work this out let's just go I ain't going nowhere with that crap now listen just Give him a minute to cool down Rick Ma che c'è ne so? C'è tensione! C'è tensione nell'aria! Tutti sti fermi immagine! C'è tensione! Niente! C'è il m'è? C'è il m'è? Ti stai chciassi tutto il tempo! Un poche giorni... Niente non ricordi il tuo nome! Ci sanno che sia tu! Non diranno che ci sanno che ci stai a pensare a qualsiasi storia che tu hai fatto! Il amico di amico sembra di dare la gente i benefici della scuola! C'è l'impression che ci vediamo, non? Beh, io ci vediamo! Tu sicuro non vai a nessun'altro! Hey, stop! Caffone Mirichino Certo poveraccio questo Nella serie era merla essere Incatenato Durante l'epidemia con Rick in coma Shane si prende cura della moglie e del figlio di Rick Come se fossero suoi Credendo che Rick sia morto Lori e Shane iniziano a provare dei sentimenti l'uno per l'altra E ha inizio una relazione romantica Insieme si uniscono a un gruppo di sopravvissuti Che campeggiavano appena fuori Atlanta Infatti Ma le conseguenze della mia scelta Ho visto un firmato con il fotoromanzo Ma infatti Ci saranno delle ripercussioni più avanti Sono un po' popplesso C'era scritto che il nostro destino era stato segnato Sono un po' popplesso Poppabacco Poppabacco Poco lontano Un episodio 4 Una vita degna di essere vissuta Che cosa ha baciato? Gli ha baciato dentro lo zigomo Ora siamo Shane E io qua mi fermerei Per ora Ragazzi Fateci sapere cosa ne pensate Se volete vedere di più E noi Quindi Fammoli fruttasti 44 euro Io non vorrei dire Ma io fossi voi Sceglierei di continuare Perché ora arriva il momento Delle scelte Bello hot No a parte le scelte Ma ora dobbiamo Trovare del cibo per il gruppo E molto voglio Ce la farà Lo troverà Chi lo sa Sceglierei di continuare Sceglierei di continuare